200 anni fa in un paesino vicino Torino nasceva San Giovanni Bosco, il padre e il maestro dei giovani. Dopo 200 anni ritorna attraverso la sua urna un'insigne reliquia di San Giovanni Bosco in giro per tutta l'Italia e sarà anche qui nella nostra Messina il 15 e il 16 novembre prossimi. Don Bosco è il padre dei giovani, colui che ha suscitato un movimento ampio quanto il mondo a servizio della gioventù. Questo passaggio a Messina ha un valore innanzitutto spirituale e religioso. Un esempio di santità oggi è molto attuale, una santità giovanile, un apostolo che ha annunziato soprattutto il Vangelo della Gioia. Ma ha anche un importante rilievo anche da un punto di vista sociale, civile, perché Don Bosco è anche colui che ha inventato il sistema preventivo quando attraverso la ragione, la religione e l'amorevolezza si cerca di far crescere come cittadini impegnati e buoni cristiani i giovani per una società completamente rinnovata. Qual è l'evento clou di questa visita? L'evento clou sarà la celebrazione dell'Eucarestia che si darà il 15 novembre in Cattedrale con una celebrazione preseduta dall'Arcivescovo e alla presenza di tutta la famiglia salesiana e dei giovani di questa nostra città.